Eccoci qua e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vedremo la pasta sfoglia. La pasta sfoglia è una preparazione di base in pasticceria insieme alle basi che sono la pasta frolla, la pasta sfoglia, le masse montate, i lievitati dolci, la pasta brioche, insomma ci sono tutte le basi in pasticceria. Oggi vedremo la pasta sfoglia. La pasta sfoglia è una preparazione veramente semplice ma come dico sempre dietro ogni ricetta semplice c'è sempre un mondo di approfondimenti poi anche molto interessanti per poter capire soprattutto se sei un appassionato ma anche se sei un tecnico di laboratorio, se sei un pasticcere, un aspirante professionista sicuramente ti potrò dare dei consigli utili e magari degli spunti per poter capire anche il perché delle cose. Quindi partiamo direttamente con la pasta sfoglia e vediamo un attimino un po' delle varie fasi, caratteristiche, il perché delle cose che poi è quello che fondamentalmente ci interessa a noi. In questo canale lo sapete io ci tengo a svelare un pochettino il perché delle cose, perché si fa in un certo modo e non semplicemente limitarsi a copiare una ricetta che come dico sempre se una ricetta è buona va tenuta e si continua con quella ricetta ma il perché si fanno le cose è la parte più interessante fondamentalmente. Allora pasta sfoglia innanzitutto che farina va usata? Allora pasta sfoglia generalmente si usa una farina da un 12% di proteine anche 11 e mezzo eh? Però da un 12% di proteine a un 13% di proteine. Diciamo da un 260 W fino, lo vedremo, a un 300 W e anche 350. Ora vedremo il perché perché sennò giustamente siamo già confusi, ok? C'è un grande divario. Diciamo farine un po' più deboli e farine un po' più forti. Generalmente si va da un 260 a un 300, però se abbiamo farine più forti, adesso vi spiego, si possono utilizzare. Diciamo una ricetta di base della pasta sfoglia. Allora, sono mille grammi di farina. Generalmente l'acqua che ovviamente per idratare la farina andrà anche messa in base alla forza che ha la farina, quindi non sempre andrà idratata allo stesso modo, però diciamo di solito si idrata al 50%, quindi mezzo litro, 500 grammi di acqua su un chilo di farina di base, ok? Poi può essere 5,50. Sale, mettiamo una media di 20 grammi, o poi può essere 22, 24, 25, in base anche al gusto che vogliamo dare, di sale, e stesso pari peso farina, pari peso burro. Quindi se voi vedete è facilissima perché abbiamo fondamentalmente due ingredienti di base, farina e burro, e poi si idrata con l'acqua, ok? Ho fatto un errore, acqua, ok? E poi si idrata con l'acqua, quindi fondamentalmente si fa acqua più farina, si fa il pastello, e il burro è il panetto. Quindi vedete, semplicissimo, panetto di burro, pastello. Pastello composto da acqua e farina e sale, ok? Si potrebbe mettere anche lo zucchero, ci sono varie ricette, ok? Quindi generalmente il pastello è acqua, farina, sale e panetto di burro. Semplicissimo. Questa è una ricetta proprio di una sfoglia base. Quindi se una persona vuole partire, vuole una ricetta della sfoglia con un chilo di farina, mezzo litro d'acqua, venti di sale e i mille grammi di burro piatto per sfogliare, questa è una ricetta base. Abbiamo un pastello magro, questo si chiama pastello magro, e poi andiamo a incassare con il burro, perché la pasta sfoglia è una stratificazione tra pasta, burro, pasta, burro, pasta, burro. Si incassa il burro, si danno le varie pieghe, vari riposi, e poi quando andiamo a laminarla per l'ultima mandata, poi va in forno, si sviluppa e si vedono tutte, la mille foglie proprio, si vedono tutte la sfogliatura, ok? Quindi è un impasto veramente semplice. Il bilanciamento, allora ci sono tanti modi per bilanciare una sfoglia, io ve ne dico due che sono proprio i più basilari. Il primo è, innanzitutto, il prima cosa, burro deve essere paritetico alla farina, e lì lo possiamo poi modulare. Ad esempio, su, ad esempio, prendiamo questo esempio, mille di farina, 500 di acqua, 20 di sale per il pastello magro, e mille di burro. Noi possiamo ridurre il burro, ad esempio lo portiamo, togliamo 200 grammi, quindi diventa 800 di burro, ok? E questi 200 mancanti li portiamo qui. Quindi cosa succede? Che da pastello magro, magro perché non conteneva grassi, diventa un pastello un po' più ricco. un po' più ricco, non è proprio ricco, un po' più ricco, ok? Quindi abbiamo già la farina, il burro, l'acqua e il sale, e abbiamo ridotto il burro piatto per sfogliare, ok? Quindi già abbiamo una, un pastello magro che è diventato un pastello un po' più ricco. E questa è proprio la base. Poi, in verità, volendo, si può anche lasciare in variata ricetta, cioè con mille di farina e mille di burro, e aumentare solo il burro nel pastello, ok? Ma diventa molto ricco, molto friabile, ok? Leggermente questa qua è la base. Quindi abbiamo già visto una sfoglia magra e una sfoglia più ricca. Ovviamente una sfoglia magra ha delle caratteristiche. Generalmente una sfoglia magra è più croccante, è più tenace, è più... una pasta sfoglia generalmente si usa per dare comunque struttura anche al prodotto che vogliamo fare, ok? Se noi vogliamo una pasta sfoglia che si scioglie in bocca, più friabile, più godibile, sicuramente quella ricca è meglio, ok? Cioè, ad esempio, ecco, poi si può fare la pasta sfoglia alla panna, anche molto buona, però ci sono varie modi. Ad esempio, nel mio corso io insegno a fare le bresciane con la pasta sfoglia alla panna, perché? Perché si scioglie in bocca, è molto più buona, ok? Che è semplicemente pari peso, farina a pari peso panna, generalmente riduco un po' la panna perché altrimenti se non abbiamo farine molto tecniche dopo diventa troppo appiccicosa, però generalmente è una pasta sfoglia ricca, è una pasta sfoglia più buona, più godibile, però non è indicata per tutto. Se noi vogliamo dare struttura, ad esempio, vogliamo fare una millefoglie, però che abbia una struttura della sfoglia ben rigida, ok? È meglio una pasta sfoglia magra. Se vogliamo una sfoglia un po' più ricca, magari per fare dei prodotti, quindi una bresciana, quindi magari anche una sfogliatina di mela, un kranz e varie preparazioni dove vogliamo una scioglievolezza. Perché ovviamente se noi mettiamo il burro all'interno del pastello, cosa succede? Che il burro ostacola la formazione di una buona maglia glutinica e quindi se lo ostacola non si forma una fitta rete coesa di proteine e quindi tende a essere più fondente in bocca, semplicemente perché fa fatica. In più c'è il burro, che il burro dona friabilità e quindi per questo motivo diventa semplicemente un po' più più morbida, un po' più friabile, ok? Quindi quando noi spostiamo il burro diamo friabilità, ok? Poi ci sono i vari tipi di impasto. Allora, c'è l'impasto dove andiamo, ad esempio il pastello, si può lavorare 3-4 minuti, 5 minuti, oppure si può lavorare 12-15 minuti, fino a formazione di una buona maglia glutinica. Quindi c'è, tipi di impasto sono due. L'impasto breve e un impasto fino alla formazione di una maglia. Queste due modalità si utilizzano, ad esempio l'impasto breve 3-4 minuti, 5 minuti e quando utilizziamo una farina non tecnica, una farina più debole, una farina che se la stressiamo troppo poi ci darà dei problemi in fase di lavorazione. Ad esempio, se abbiamo una farina tecnica o una farina forte, anche 300-350V, la possiamo lavorare tanto e anche poi dando le pieghe non succede niente, perché è una farina adatta, soprattutto se è una farina specifica per sfoglia, non ci sono grandi problemi, perché la possiamo impastare, lavorare e non dà problemi. Ma se usate una farina debole e la lavorate tanto, poi avete dei problemi. Quindi ecco perché ci utilizzano due metodi, non è che uno è giusto e uno è sbagliato, sono tutte e due giusti, dipendi che farina hai, ok? Poi all'interno della sfoglia si utilizza ad esempio il malto. Il malto, ci sono molte ricette, se vedete anche con malto, il malto serve per dare un po' più estensibilità alla pasta, perché ovviamente il malto, soprattutto il diastasico che contiene enzimi, va a lavorare proprio, va a aggredire la maglia, quindi va a allentare la tensione che ha la maglia, ok? E poi dà anche un miglior sviluppo. Oppure ci sono ricette con il vermouth o il vino, ok? Che danno più friabilità, fragranza alla sfoglia, ma irrigidiscono anche la maglia. Quindi, ad esempio, se voi avete una farina che, diciamo, tende a essere molto estensibile, se volete che sia un po' più rigida, usate vermouth o vino, ok? E quindi andiamo a irrigidire un po' la maglia. Oppure ci sono ricette con l'aceto, l'aceto tende a ritardare l'imbrunimento enzimatico. Quando voi fate la sfoglia, già vedete nell'arco, un paio di giorni dopo, inizia a fare tutti quei puntini. Quei puntini non è che è andata male, è semplicemente l'imbrunimento enzimatico, ok? Sono gli enzimi. E l'aceto va a lavorare anche sullo sviluppo, quindi se c'è anche l'aceto sviluppa meglio. Diciamo che in linea di massima il malto nelle farine, diciamo, che tendono ad essere un po' più rigide, mi può dare un po' estensibilità e vermouth, vino, se vogliamo un attimino andare a ridurre quello che poi l'estensibilità rigidisce un po' la maglia. I vari tipi di incasso, c'è l'incasso a libro, l'incasso a fazzoletto, ci sono vari tipi di incasso, ok? E i vari tipi di pieghe, ad esempio, ci sono pieghe che generalmente vanno date per un motivo. Allora, generalmente la pasta sfoglia alla piega di base è 3-4-3-4. Poi c'è chi fa anche due volte tre, due volte tre, c'è chi fa due giri doppi, cioè due da quattro, due da quattro e sono tutti giusti in base al tipo di ingredienti di partenza che partiamo. Però in linea generale, più grasso c'è nella sfoglia, più pieghe diamo, meno fuoriesce burro. Meno andiamo a dare delle pieghe, più la pasta sfoglia deve essere magra, perché più andiamo a stratificare, più viene contenuta, ok? Quindi la fuoriuscita di grasso deve essere ridotta dando più pieghe, ok? Mentre invece se è magra si possono dare meno pieghe senza problemi. Quindi generalmente questa è la proprio informazione di base. Lavorazione, sì, ecco, anche lì c'è chi impasta, si fa riposare in frigorifero. Ecco, io consiglio di metterla in frigorifero, la sfoglia che arrivi a temperatura fredda in modo tale che si lavora meglio in macchina con il burro dopo incassato. Però generalmente sono due metodi. Lavorazione, il primo giorno, che c'è, si fa tutta in giornata, quindi si fa la sfoglia in giornata, metodo rapido. E poi c'è la lavorazione in due giorni, che è un metodo anche classico, cioè si fa la sfoglia, e c'è anche in tre giorni, ok? C'è chi la fa anche in tre giorni. In linea di massima diciamo che una volta fatto il pastello si fa riposare dai 30, 60 minuti, 120 minuti, ok? Si fa riposare comunque, si incassa il burro, si danno le pieghe. C'è chi fa riposare il pastello una notte in frigo direttamente, sfoglia il giorno dopo. C'è chi fa riposare il pastello 30 minuti, sfoglia dalle pieghe, ogni piega dai riposi, e poi dall'ultimo riposo finale una notte in frigo. Ecco, il riposo finale una notte in frigo andrebbe sempre dato, ok? Qualunque sia la modalità di tipo di sfoglia di lavorazione, cioè se lavorerete in un giorno o due, ad ogni modo l'ultimo riposo della sfoglia ci vorrebbe una notte in frigorifero, il giorno dopo almeno si tira ed è più elastica, ed è, si è, diciamo, si è strutturata bene, è più estensibile. Però generalmente si può fare in un giorno, la sfoglia in un giorno, ok? Un metodo un po' più rapido, oppure in due e anche in tre giorni. Dipende anche il tipo di farina che avete. Ovviamente se è una farina forte, più gli date riposo, più tende poi a essere di facile lavorazione. Se avete una farina debole, forse è indicato la pasta sfoglia in giornata. Poi anche qui ci sono vari metodi, c'è chi anche non mette il burro all'interno dalle pieghe, ma lo mette a pezzettoni nell'impasto, poi dalle pieghe una pasta sfoglia a metodo rapido o metodo olandese, ci sono vari modi. Metodo classico? Ah, poi ci sono i metodi classici, i metodi inverso. C'è chi usa il metodo classico, il metodo classico prevede di formare il pastello, si mette il burro generalmente, io utilizzo il metodo a libro, quindi metto il burro, chiudo a libro, poi vado in sfogliatrice con il metodo classico e lavoro la pasta. Poi c'è il metodo inverso invece che quello alla francese, dove praticamente il burro sta all'estremità e in mezzo c'è il pastello magro. Quindi si fa burro, pastello, burro, si incassa e si danno le pieghe. Questo è un po' più complicato, perché ci vuole un po' più attenzione, devi essere un po' più preciso, un po' più bravo, in quanto il burro, innanzitutto devi dargli delle belle spolverate di farina e poi devi essere inquadrato, perché comunque non è facile lavorare il burro in sfogliatrice, soprattutto se non è un burro tecnico plastico. Quindi diciamo che il metodo che si utilizza di più è il metodo classico, dove la pasta è all'esterno, il burro è al centro, quindi si lavora un po' più facilmente se hanno meno problemi. Già comunque sfogliare per una persona che non ha esperienza non è facile. Laminare non è proprio facile, all'inizio bisogna aprire confidenza con la macchina, insomma non è facile. Il metodo inverso è un po' più difficile anche se non si ha esperienza. Dicono che ci sono delle differenze diciamo anche di scioglievolezza, eccetera, ma lasciamo stare che entriamo in un mondo ancora più complicato. E poi c'è la conservazione. Ecco, generalmente quando fatti tutti questi passaggi si arriva alla conservazione. Generalmente si conserva in frigorifero per tutta la notte e si usa il giorno dopo, però generalmente la pasta sfoglia si fa, si fa in abbondanza, si abbatte, ok? Si mette la pellicola o meglio anche un sacchetto di nylon, quelli resistenti, si mette in freezer. Si può utilizzare dopo quando si vuole la pasta sfoglia. Ecco, quando poi si prende la pasta sfoglia dal freezer, va messa in frigorifero tutta la notte a scongelare piano piano e il giorno dopo si può utilizzare. Non si può prendere, aspettare due ore utilizzare, ma bisogna metterla in frigorifero. Il giorno dopo si può utilizzare, in modo tale che ha scongelato bene bene, non ha perso troppa acqua, eccetera. Quindi abbiamo visto che per una semplice, fondamentalmente, ricetta come la pasta sfoglia, capiamo già che ci sono tante cose da sapere, quindi la farina, le ricette di base, il bilanciamento, i tipi di impasto, perché usare il malto oppure non il malto, le pieghe, le lavorazioni, il metodo classico, il metodo inverso, la conservazione. Queste sono tutte cose che vengono poi con l'esperienza e ad ogni modo io consiglio sempre di sperimentare, ecco, sperimentare, variare, provare ricette, tentare di capire anche cose più utili in quel momento per quel tipo di prodotto. E poi c'è anche la fase di cottura, ecco, la cottura è una parte importante, è una parte importantissima. La cottura è importante, dipende cosa vogliamo fare. Ovviamente la pasta sfoglia tende a crescere molto, quindi generalmente se vogliamo fare mille foglie o vogliamo fare prodotti molto regolari, generalmente si mette un peso sopra per farla crescere molto regolare. Anche qui poi si può caramellare, c'è chi la caramella, quindi la porta a caramellizzazione con lo zucchero, c'è chi non la caramella. Diciamo che l'importante è che la frolla sia cotta al cuore, perché molto spesso, visto che non viene cotta bene, poi risulta cruda e se la frolla dentro è cruda è gommosa. Quindi la cottura deve essere prolungata, ok, fino al cuore. E poi si può decidere anche se caramellarla, non caramellarla. Poi, ad esempio, si può impermeabilizzare col burro di cacao o c'è chi usa il cioccolato bianco, il cioccolato fondente, per proprio comporre poi il dolce, perché la sfoglia ovviamente a contatto, ad esempio, con una crema pasticciera, una chantilly per fare una mille foglie, si bagna. Se non la impermeabilizziamo, cioè non permettiamo all'umidità di entrare, rimane croccante. Questo generalmente si fa con burro di cacao fuso, però non è che è il massimo del gusto. A me non dà fastidio, però a tanti dà fastidio il burro di cacao fuso o il cioccolato bianco si impermeabilizza. In questo modo si fa una pasta frolla impermeabilizzata, cioè una volta cotta, raffreddata, si impermeabilizza, si monta il dolce. Allora sì che può rimanere anche dei giorni, tranquillamente, che non si bagna all'interno la sfoglia e rimane un prodotto sicuramente più buono, più croccante, come appena fatto. Ecco, se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale per essere sempre aggiornato sui contenuti che pubblico e per essere sempre aggiornato sui vari video e le varie lezioni che faccio, sempre in tema della pasticceria un po' più, diciamo, andando nel profondo. Se non l'hai ancora fatto, attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sulle novità e come sempre ti ricordo che qui sotto ci sono i tasti per accedere direttamente le mie masterclass, quindi ai miei corsi, c'è il mio sito internet anche che potete andare a vedere i miei corsi, al momento abbiamo attivi pasticceria da forno e pasticceria lievitata, due percorsi che rendono capace sia appassionati, amatori che vogliono capire un po' questo mondo della pasticceria, sia per aspiranti pasticceri o pasticceri che vogliono migliorare le loro tecniche in pasticceria. Ad ogni modo io ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!